Sì, ma dobbiamo svegliarle. Lo so. Ci fermeremo a ritorno, quando andiamo all'aeroporto. Sai che non lo faremo? Sì, probabilmente no. Ok. Attenzione, lì, faccio vite. Voi come vi siete conosciuti? Ci siamo incontrati 18 anni fa, ci siamo più o meno innamorati. E dieci anni dopo ci siamo rivisti per caso. No, 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 tu hai scritto un libro, io l'ho saputo e ho fatto in modo di incontrarlo. No, è molto romantico. Se ci incontrassimo oggi su quel treno, tu parleresti con me? Mi chiederesti di scendere con te? Ovviamente. Non so, questo posto è così ricco di mitologie e tragedie. A te mi sarebbe successo qualcosa di tragico. Ancora lì, ancora lì, andato. Non la smetti di adocchiare le ragazze. Io non adocchio le ragazze, io faccio l'amore con i miei occhi. Wow, sto con un eterno Peter Pan. A chi la passo? A chi la passo? Ti sento vicino. Sì? Ma a volte, non so, mi sembra come se tu respirassi Elio e io ossigeno. Cosa te la fa dire? Abbandi, salute. Potevi dire qualcosa di romantico e non l'hai fatto. Tu sei il sindaco della città dei pazzi, lo sai questo? È così che le relazioni finiscono. Oh mio Dio, glielo assicuro. Il ragazzo tenero e romantico incontrato in treno di cui ha un vago ricordo, sono proprio io. Perché sento di essere così attratto da questo donno? Wow. Oh mio Dio, glielo assicuro.